ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi sono tornato su fruitbox per continuare ad aumentare di livello e soprattutto a diventare più forte nello scorso video avevo promesso che avrei comprato il frutto di magma e l'ho comprato off camera perché vi avevo chiesto se dovevo comprarlo in video potevo comprarlo off camera nessuno di voi mi ha dato una risposta e quindi l'ho comprato off camera voi lasciate un bel like iscrivetevi e fatemi sapere giù nei commenti se vorreste che facessi altri video su brooks flutes su fruit blocks è difficile nominarlo ora posso fare già una prima missione che è questa per la prossima bisogna arrivare a 325 di livello quindi cominciamo meteore vulcaniche in realtà sarebbero magmatiche ma meglio possiamo chiamarli con altri nomi diversi uno di magma ecco mi è tornato qui ragazzi non so perché quando ho fondato altri nemici tipo come per esempio il collega di quello lì mi hanno questo non riesce a trafiggermi invece uno si boh sto gioco è veramente strano ecco fatto già ho eliminato due non ne vengono pochi ecco qua e Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.